Il centro commerciale Le Bolle dispone di ben 21.000 m2 di superficie e di un parcheggio esterno con 2.300 posti auto, un ipermercato Despar, una tecnologica Euronics, un megastore Globo e ancora OVS, Alcott, Piazza Italia ed Arte Casa, inoltre 50 negozi con marche nazionali in segno locali. Centro commerciale Le Bolle, uscita autostrada A3, Eboli, Salerno.